Sono 2041 le denunce di infortunio sul lavoro in Liguria nel mese di febbraio per un totale di 5.557 nei primi due mesi del 2022, più 94% rispetto allo stesso periodo del 2021. I dati stati elaborati dall'ufficio economico CGL Liguria rilevano incrementi maggiori per le donne, più 148%, in modo particolare in quei settori più colpiti dalla pandemia, come la sanità, l'assistenza sociale, i trasporti, la logistica e il commercio. L'incremento maggiore delle denunce per infortuni sul lavoro riguarda la pubblica amministrazione e la difesa, con un più 323%, meno coinvolti i settori tradizionali, come attività manifatturiera e costruzioni. Nel periodo esaminato si registra anche un infortunio mortale nel Savonese. Al netto degli infortuni sul lavoro determinati dalla pandemia, i numeri continuano a essere troppo alti, ha detto Maurizio Calà, segretario generale CGL Liguria. Oltre a più formazione e a maggiori controlli, il mondo del lavoro ha bisogno di una vera e propria rivoluzione culturale. Sono necessarie maggiori risorse da dedicare a prevenzione e a nuove assunzioni per gli ispettori del lavoro.